Stefano Bruzzesi, responsabile antilogale del PD Toscana, tra un mese si vota anche in Toscana, tra cui a Carrara, a Pistoia e a Lucca. Come si presenta il PD a questa sfida? Siamo innanzitutto a una delle solite primavera che si va sempre a votare, ogni primavera c'è questa osuetudine in Italia. Per cui è una primavera importante perché sarà anche prima alla prossima primavera dove ci saranno dopo 5 anni. Le elezioni, quelle politiche. Sono ben 30 comuni che si apprestano al voto, di cui 5 sopra i 15.000 abitanti. Come dicevi te, c'è Lucca, c'è Pistoia, c'è Carrara e poi c'è Quarrata e c'è Camaioli per quanto riguarda quelli sopra i 15.000. E poi ci sono tanti altri comuni nelle altre province. Ovviamente il PD si appresta, una grande sfida è quella di conquistare l'opera.